buongiorno ragazzi adesso vediamo il caso c3 quindi delta minore di zero con il denominatore dell'integranda il polinomio g di x di secondo grado quindi ax2 più bx più c di questo caso non darò la formula generale perché è una brutta formula con tante variabili ma spiegheremo il procedimento con degli esempi intanto consideriamo il caso in cui il numeratore r di x è un numero k allora prendiamo l'integrale quindi diventa k fratto ax2 più bx più c in dx allora il trucco è quello di riuscire a trasformare il denominatore a riscrivere il denominatore come un quadrato di un polinomio più un numero che posso anch'esso vedere come il quadrato di qualcos'altro dopo essere riusciti a riscrivere il denominatore come un polinomio assegnato x più b assegnato al quadrato più m4 andrò a sistemare le cose con il termine noti e cercherò di riportare l'integranda in una forma del tipo f primo più 1 più f al quadrato in dx e questo ricordiamo che come risultato dall'arco tangente di f più c vediamo tutto quello che abbiamo detto partendo da un esempio ricordiamo che in questo esempio noi prendiamo il numeratore r di x numero k per esempio 1 e al denominatore un polinomio di secondo grado con il delta minore di 0 x2 meno 2x più 2 in dx considero quindi il nostro denominatore g di x uguale a x2 meno 2x più 2 e devo riuscire a scrivere questo g di x come il quadrato di un binomio più un altro numero che posso pensare sempre come il quadrato di qualcosa allora parto dai primi due termini i primi due termini come se fossero quadrato di un binomio e poi aggiusto le cose con il termine noto quindi x quadro lo penso come il quadrato di x meno 2x lo penso come il doppio prodotto quindi se meno 2x è il doppio prodotto significa che il prodotto è meno x quindi che c'è un meno tra i due termini del quadrato del binomio e che il termine noto del binomio deve essere un 1 quindi posso dire che il mio quadrato x meno 1 al quadrato fa proprio x 2 meno 2x più 1 e questo risultato è quello che andrò a inserire vedete lo andiamo proprio a mettere all'interno della mia parentesi al quadrato dopodiché il mio m quadro è quello che mi serve per far tornare le cose rispetto al denominatore del testo dell'esercizio iniziale quindi nel nostro caso in particolare visto che inizialmente l'esercizio aveva x2 meno 2x più 2 quello che mi manca il mio m al quadrato è proprio un 1 che con l'uno dello svolgimento del quadrato del binomio mi porta proprio il più 2 quindi parto dal mio integrale 1 fratto x quadro meno 2x più 2 in dx lo posso scrivere come come l'integrale di 1 fratto il mio termine al quadrato x meno 1 al quadrato più 1 adesso sono proprio riuscita a scrivere il mio integrale nella forma f primo fratto 1 più f al quadrato dove la mia f è proprio x meno 1 e il mio f primo che deve essere al numeratore quindi è 1 quindi il risultato del mio esercizio è l'arco tangente di x meno 1 più c andiamo adesso a vedere un altro caso abbiamo sempre un delta minore di 0 ma abbiamo a numeratore un rx che non è un numero ma è un polinome di primo grado quindi kx più h dovremmo fare due cose la prima cosa aggiustare il numeratore in modo da riuscire a creare a numeratore la derivata del denominatore e la derivata di un polinomio di secondo grado sarà un polinomio di primo in questo modo spezio il mio integrale iniziale in integrale di f primo fratto f più l'integrale di q fratto ax quadro più bx più c il risultato quindi porterà una prima parte con un logaritmo del modulo di quello sotto più una seconda parte che sarà esattamente come il primo caso che abbiamo visto con un arco tangente come risultato vediamo un esempio integrale di 4x fratto x 2 allora la prima cosa da considerare è prendere il denominatore g di x e fare la sua derivata quindi la derivata di g quindi g primo è 2x meno 1 quindi adesso io devo paciugare col numeratore di questo integrale e cercare di ottenere quello al numeratore quindi intanto vedo 4 come 2 per 2x fratto il mio numeratore un 2 me lo tengo dentro l'integrale perché mi serve per avere il 2x l'altro lo porto fuori dall'integrale tanto è un numero si può fare perché non mi serve ora mi manca creare quel meno 1 a numeratore quindi che cosa posso fare stando nella legalità posso aggiungere e togliere un 1 a numeratore quindi metto il mio meno 1 che voglio e aggiungo il più 1 per ovviamente non modificare il testo dell'integrale a questo punto spezzo i due integrali quindi 2 per l'integrale di 2x meno 1 che adesso è la derivata del denominatore fratto il nostro denominatore x quadro meno x più 1 da una parte e dall'altra parte mi rimane il più 2 per l'altro integrale che a questo punto è del tipo k fratto g di x con delta minore di 0 ok adesso il primo integrale mi darà come risultato il logaritmo del modulo di quello sotto il secondo integrale lo svolgo adesso a parte il risultato sarà 2 per il risultato di questo secondo integrale che ovviamente come l'esempio numero 1 dovrò riportare alla formula f primo fratto 1 più f quadro che mi darà cotangente allora consideriamolo da parte e come abbiamo svolto nel primo esempio devo creare dal denominatore un quadrato il quadrato di un binomio più un numero quindi dal nostro x quadro meno x più 1 devo creare il quadrato di un binomio più un certo m quadro considero ancora i primi due termini vedo x quadro come il quadrato di x che quindi è il quadrato del primo termine meno x è il mio doppio prodotto quindi vorrà dire meno 2 per un mezzo x quindi questo che cosa significa che il mio binomio dovrà essere x meno un mezzo tutto al quadrato facciamo i conti quindi verrà x quadro verrà il mio meno x ho sbagliato meno x non meno 2 più un quarto questa è la quantità che vado a inserire all'interno delle mie parentesi adesso devo aggiustare le cose con il termine noto perché ho quell'un quarto lì ma insieme al mio m quadro quell'un quarto più m quadro devono farmi il più 1 del denominatore del testo della parte che stiamo risolvendo quindi il mio m quadro deve essere uguale all'uno meno un quarto quindi per arrivare al denominatore di partenza mi manca quel tre quarti che lo vedrò come la radice di 3 fratto 2 tutto al quadrato andiamo a inserirlo bene all'interno di un integrale quindi viene l'integrale di 1 fratto x quadro meno x più 1 in dx che diviene quindi l'integrale di 1 fratto il mio binomio x meno un mezzo al quadrato più il tre quarti per ora lo lascio un attimino come tre quarti adesso ricordiamoci che io voglio arrivare a f1 fratto 1 più f quadro io non ho ancora l'uno quindi che cosa faccio? raccolgo a denominatore tre quarti che mi porto fuori dall'integrale come quattro terzi in modo da crearmi l'uno e da decidere bene com'è f quindi ho questo termine fratto il tre quarti che ho raccolto più finalmente 1 ora mettiamo a posto bene il mio f quindi il mio f che cos'è? è x meno un mezzo tutto fratto la radice di tre mezzi che poi sarà il quadrato ok? quindi il mio f è quello dentro la parentesi mettiamola a posto un attimino bene quindi il mio f sarà 2x meno uno per due fratto radice di tre il fratto due va via sia numeratore che dominatore rimane questa la mia f e quindi il mio f primo che devo crearmi a numeratore sarà due fratto radice di tre sistemiamo le cose quindi ho il mio quattro terzi che ho portato fuori il mio uno fratto dentro la mia f che poi metto al quadrato più uno adesso metto a numeratore la derivata che voglio e porto fuori esattamente il suo reciproco per pareggiare i conti mettiamo qualche di x che li abbiamo dimenticati tutti a questo punto che cosa viene? 2 radice di tre fratto tre per l'arco tangente della nostra f quindi 2x meno uno fratto radice di tre più c questa è la soluzione del mio secondo integrale che con l'asterisco dovrà essere posizionata e moltiplicata per due lì unendola alla prima parte rosa della soluzione quindi questo è lo svolgimento quando a numeratore ho un polinomio di primo grado e quindi